Vabbè, Paolo così ha parlato e chiaramente tu rappresenti un insieme di cose. Posso dire io la mia Cesara? Dilla e poi voglio fare una domanda. Guarda, io quando gli ho detto questa cosa non mi interessava assolutamente una risposta e non voglio che la dica neanche in una diretta. L'importante per me era tirarlo fuori e ammetterlo a me stesso, punto primo. Ma non per questo cambia la mia ideologia di non provare a fare cose o non rispettare lei e la sua relazione. Quello è il mio pensiero, ma ho ammesso a me stesso che lei comunque mi piace, punto. E noi l'abbiamo capito questo qui. Letizia, prova a disegnarci il tuo ragazzo ideale. Insomma, voglio sapere una cosa. Somiglia un pochino a Paolo? Già ce l'ha. Vabbè, ce l'ha, ma somiglia un po' a Paolo? Ma intendi caratterialmente, Cesaro? Eh sì, certo. Ma non mi sembra, cioè non... Non è una domanda sicuramente. È brutto fare paragoni. Non si può dire. È brutto fare paragoni. Ah. Ma non mi sembra, cioè non mi sembra, cioè non mi sembra, cioè non mi sembra, cioè non mi sembra, è brutto fare paragoni. È brutto fare paragoni. Non mi sembra, cioè non mi sembra, cioè non mi sembra, cioè non mi sembra, è brutto fare paragoni.